Siamo di fronte ad un acquifero veramente in condizioni allarmanti. Per il professor Leo Adamoli, esperto geologo della Società Italiana di Geologia, non ci sono dubbi l'acquifero del Gran Sasso è sotto minaccia tra infiltrazioni inquinanti, dispersione della risorsa acqua a seguito della realizzazione del doppio traforo e altri fattori come la presenza dell'Istituto di Fisica Nucleare, è giunto il momento di fare qualcosa di serio e concreto per salvare e salvaguardare la principale risorsa idrica del Medio Appennino. La riduzione del flusso idrico dopo la realizzazione del traforo è stata impressionante e già 30 anni fa i geologi lanciarono l'allarme opponendosi alla costruzione della terza canna sotto al massiccio del Gran Sasso. Il tema dell'acquifero è stato affrontato in occasione del workshop organizzato all'Università di Teramo dalla Società di Geologia con la partecipazione della Ruzzoreti. I rischi sono notevoli, come ha sottolineato il professor Adamoli. Essendo un acquifero carsico, presenta un elevatissimo grado di vulnerabilità intrinseca vuol dire che un fenomeno, un inquinante qualsiasi, si propaga velocemente lungo l'acquifero per cui il grado di vulnerabilità è altissimo. I geologi si sono già espressi. È necessario impermeabilizzare completamente i 22 chilometri del doppio traforo che si snodano sotto al Gran Sasso. Servono però risorse milioni di euro, circa 200. C'è anche un altro aspetto che non va sottovalutato e che mette a rischio in qualche modo l'acquifero. Qui però l'uomo non ha alcuna responsabilità. C'è un alto grado di pericolosità e di rischio sismico perché proprio in prossimità del laboratorio a circa 900 metri di distanza c'è una faglia, una faglia attiva. La faglia attiva di questo problema si è tenuto poco conto fino ad oggi. Invece di questo problema bisogna tenerne assolutamente conto. E poi i fatti recenti hanno dimostrato appunto che l'acquifero è ancora sottoposto a fenomeni di contaminazione. Chiaro il messaggio che è arrivato dai geologi. Non si può più perdere tempo. Bisogna elaborare un progetto di tutela dell'acquifero garantendo inoltre una convivenza senza interferenze con l'Istituto di Fisica Nucleare.